Ciao ragazze, bentornati su trucchi.tv, nuovo video, come sapete tutti i giorni troverete un video qua sul canale di trucchi.tv Allora, oggi nuovo video decluttering, questa volta farò pulizia nelle mie palette Ho dovuto per forza di cose, mi stavo arrampicando, cioè vedevo le mie mani che stavano giocando praticamente Ho dovuto per forza di cose dividere il video in palette e ombretti, quindi prossimamente faremo gli ombretti E oggi invece vedremo le palette, un sacco di palette, neanche tantissime, no in verità non tantissime Quindi iniziamo subito a vederle, ma prima di iniziare vi invito tutte, sotto trovate il link al nuovo gruppo privato su facebook di trucchi.tv Quindi se non siete ancora iscritte, cioè se non avete ancora chiesto l'iscrizione, sotto trovate il link se vi fa piacere ovviamente Se non vi fa piacere, niente, non fate finta di niente Niente ragazze, iniziamo subito, spero che vi faccia piacere e vediamo se sono stata brava o no Iniziamo questo decluttering di tutte le mie palette Allora ragazze, voi le vedete così perché erano sistemate, se avete visto il mio vecchio video della vanity room Erano sistemate con questo mobiletto di Ikea che veniva posizionato sopra le Alex Adesso in questo momento io non ho le Alex vicine, quindi l'ho posizionato su questa che è la mia scrivania Che poi in futuro, quando finirà tutto, sarà la mia postazione make up E molte delle palette verranno messe qui in questo mobiletto Molte delle altre purtroppo le devo mettere in un cassetto Che poi dopo quando sistemeremo vi farò vedere come sistemerò Ma la maggior parte voglio riuscire a lasciarla qui In modo da riuscire a vedere sempre che cosa ho, che cosa non ho In modo da utilizzarle Quindi dopo questa piccola premessa, questo marasma totale Perché ho tirato fuori tutto Perché io non avevo ancora tirato fuori niente da quando mi sono arrivata qui in Gran Canaria Quindi adesso ho tirato fuori tutto ed è un marasma Allora iniziamo subito Questa è la mia, un'unica palette di Nabla che non ho ancora completato E all'interno c'è questo ombretto di Makeup Geek che mi ha regalato Silvia Che però mi si è rotto Vedete, questo lo vado a eliminare, lo vado a togliere purtroppo Non l'ho neanche provato ma purtroppo si era rotto E quindi poi vado a pulire tutto e elimino questa E intanto la tolgo Mi sono munita di questo cestellino In modo da mettere tutto ciò che toglierò Ma dubito che ci starà tutto Quindi questa qua la tengo e mi auguro di terminarla al più presto Anzi se avete qualche ombrettino di Nabla da consigliarmi Consigliatemelo che io sono sempre Poi mi trovo lì, sapete quando vedete mille robe E non sapete dove decidervi Vabbè, lei ragazze non vi dico nient'altro Questa ovviamente la tengo È quasi immacolata praticamente La mia Huda Beauty La tengo Altro pezzo, dire questo lo butto Altro pezzo di collezione Questa ragazze è una meraviglia Di Cato Von D Uscita in edizione super limitata Adoro Questa la tengo Non si trova più andata a ruba Questa è una piccola palettina di Burberry Se non mi sbaglio Veramente molto, molto bella Veramente molto bella Sui toni naturali del marrone Questa la tengo È dell'edizione permanente La numero 02 Moka Questa la tengo Oh, questa è meravigliosa Questa è bellissima Questa è stupenda Questa è veramente bellissima Me l'aveva mandata Criolan Ve la faccio vedere se riesco Io già mi sbeccherò lo smalto sicuramente Guardate che meraviglia Cioè se vi piacciono i toni naturali Questa fa per voi Ombretti ragazze Cioè Di una texture favolosa Favolosa Cioè veramente meravigliosa Iniziamo a vedere un po' di schifesse Questa ragazza Che è oltre che sporca Ma non la pulisco neanche È una vecchia make up box Di NYX Ma veramente Una cineseria Veramente Mai vista Cioè vedete Una roba Veramente Veramente Un po' bruttina Questa magari La tengo E vedo se c'è qualche Bambina Per giocarci O magari Gliela do a Riki Per disegnare Tipo il posto degli acquarelli Ragazzi Veramente La qualità È veramente Veramente Molto Molto Che Questo è proprio Gli albori Di NYX Penso che NYX Non appartenesse ancora A L'Oreal Non Non fosse stata ancora Comprata Questa va direttamente A inaugurare lo scatolino Poi Andiamo avanti Oh Questa è la mia palettina Di Inglot Questa è una delle prime Palette di Inglot Che ho fatto Questa la tengo Perché mi piace un sacco Molto molto bella Questa è un'altra palettina Di NYX Che in verità Mi piace molto Questa la Terray Perché è veramente Molto carina E anche La composizione dei colori Mi piace molto Questa è la For eye color brown Ma sinceramente Non vi so dire Se è in commercio Perché io NYX Lo acquistavo Prima che venisse Commercializzato Poi paradossalmente Quando ho iniziato A essere commercializzato Non l'ho più comprato Ma non per una questione Di snobberia Non lo so Per quale motivo Qui ho due palette Di Makeup Revolution Che io apprezzo tantissimo Queste sue palette Ci sono cose che Veramente mi fanno Aspettate che Apro tutto Perché non voglio più Vedere cartacce Veramente Perché le cartacce Non ti aiutano A usare le tue cose Queste sono due Iconic Pro Che vengono definite Come il dupe Almeno una di queste È il dupe Di questa palette Che vedete Strautilizzata Noi adesso Andiamo a vedere Quale è la Iconic Pro Dupe di questo Giusto per vedere Visto che siamo Già qui Vediamo un po' A me piacciono tantissimo Queste Le apro tutte e due Vediamo un po' Ecco Questo dicono Che sia il dupe Di questa Beh Devo dire che Comunque ci sta Anzi ragazze Penso che sia Spiacicata Veramente Non avevo mai fatto Questo confronto È paradossale Cioè Veramente È paradossale Cioè Mi lascia perplessa Comunque Questa la tengo E questa anche Questa dicono invece Che l'Iconic Pro 2 Sia il dupe Della Allorac Pro 2 Quindi Che io non ho Quindi questa Maggior ragione È nuova Non l'ho mai usata Cioè vedete È fantastica Quindi queste tre Le tengo Tutte e tre Voglio cercare Veramente di andare Veloce Questa è la mia Selfmade Di Anastasia Che amo E ho utilizzato Tutto luglio Amo Amore Veramente Amore Non vedo l'ora Di acquistare Che torni online La Subculture Per acquistarla Ovviamente Questo è un altro Amore Urban Decay Gwen Stefani Adoro Veramente Adoro Un'edizione limitata Quindi Cioè Preziosa Come l'oro Questa è una palette Di Bionique È molto 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 Carina Veramente Molto Carina Guardate Che bella Naturale Veramente Penso di averla Solo aperta Mai utilizzata Ma è veramente È una composizione Veramente Molto carina Di colori Questa la tengo E magari la metto In avanti Per utilizzarla Qui vediamo Queste micro palettine Da un euro Di elf Che io eliminerei Insieme a questo Vecchissimo Questa vecchissima Palettina Di essence Veramente Veramente Molto 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 Vecchia Elimino Tutta questa roba Perché È vecchia È veramente Veramente Molto Vecchia Tutta questa Questa qui Va Nello Stato vino Poi Qui abbiamo Una palettina Di Chanel Che sinceramente Non so Quale sia Ah ok Questa qui La Matilissè Matilissè Sì Ombre Matilissè De Chanel Questa la tengo È stato un regalo Se non mi sbaglio Questa non ho idea Cosa sia Ah no È un illuminante Camelia Quindi questa Andrà al suo posto Cioè vedete Che è veramente Un marasmo Intanto faccio spazio Al resto Questa è la nuova Belle Sensuals Che ho provato Nell'ultimo video Get ready with me Allora Questa Ragazze Questa palette Mi lascia molto perplessa Perché è Ha tanti toni chiari Cioè se vedete Più della metà È toni chiari È anche matte Quindi è veramente Una palette Che per La pelle olivastra È un po' difficile Cioè È poco sfruttabile In verità Però la voglio La sto provando La sto ancora provando Per vedere Questi sei qui Ultimi Mi piacciono molto Questi qui Sono troppo Troppo chiari Cioè Sono perfetti Per chi ha la pelle Veramente diafana Un sottotono rosato Per quel genere Di pelle È veramente top Questa è una palette Di Too Faced Che io adoro The Return of Sexy Questa è fantastica Penso che sia ancora In commercio Questa qui Non mi ricordo Perché me la confondo Sempre con Questa Queste due Comunque sono due palette Che tengo Perché questi sono Ombretti super luminosi Fantastici E invece Questa È una delle due Ah no no Allora Questa qui Non è più in vendita È stata sostituita Da questa Con i cuoricini Molto bella Fantastica Finiamo qua davanti Qui davanti C'è questa mega palettona Questa è una mega palettona Di Tarte Che ragazze Io mi vergogno A dirvi Che non ho mai utilizzato Veramente Cioè guardate che meraviglia Non l'ho mai utilizzata L'ho comprata Non l'ho mai utilizzata C'è anche il Il mascara Un po' Tipo in questa In questo pecco Un po' maculato E anche una mini palette Da viaggio Molto carina Cioè sono veramente Una scema Veramente una scema Cioè veramente Veramente fantastica Questa palette Veramente Io intanto Questa qui La tirerei fuori In modo da poterla utilizzare Cioè vedete che bellina Che è Perché se no Così dentro Non si utilizza Quindi questa la tengo Perché è Un'edizione Natalizia Di qualche anno fa Che avevo comprato Quando ero andata a New York In viaggio di nozze E la tengo ovviamente Perché è un ricordo Qui c'è la mia palettina Che io amo 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 Io questa la consiglierei A tutti È una palettina Di Tom Ford Fantastica Veramente qua Non rendono i colori Ma hanno una texture Ragazze Morbida Morbidissima Veramente morbidissima Poi Qui c'è una palette Che ho fatto io Con di Neve Cosmetics Questa la voglio tenere Perché ha dei colori Favolosi Questi sono Quelli usciti Con Quella palette Super famosa Andata A Ruba Non mi ricordo Come si chiama Anzi Non mi ricordo Questo forse si chiama Alchemista Non mi ricordo Ragazze Adesso faccio un casino Faccio sicuro Un casino Sicuro Wow No È veleno È veleno Però Non mi ricordo Come si chiama La palette Veramente Quindi Questa la tengo Perché è quasi nuova Qui abbiamo Una palettina Sui toni naturali Di Doll 10 Che è un marchio Che trovate Solo e esclusivamente Su QVC È una paletta naturale Molto molto carina Io ho qualcosina Di questo marchio Perché me li ha fatti Conoscere mia Mia suocera È molto molto bellina Sul naturale Sui pannini Ma vedete che questi Sono chiari Però non sono chiari Come quelli di Bear Sensors Della palette Di Bermina Questi sono anche Sfruttabili Perché sono sul tono Dei giallo Beggiolino Chiarino Per il burro Questi sono due Illuminanti Cioè molto molto carina Questa si chiama All eyes on you Matte eye shadow palette È molto molto carina Poi Qui intanto C'è una torre Ah Guarda questa scatolina Che sinceramente Ragazze Non so cosa ci sia Vabbè Questa è la Shadow light Che ancora Ah ma questa Non dovrebbe essere qui Questa dovrebbe andare Da un'altra parte Questa è È una disobbediente Questa è una palettina Di Physician Molto molto carina Veramente molto carina Se vi piacciono Gli ombretti Tutti sberlucicosi Molto veramente Veramente carina Dovrei averne anche un'altra Poi Questa è la Naked Basics Che penso sia rotta Mi sia rotto un colore Sì Vedete Però l'adoro Cioè veramente molto bella E ci dovrebbe essere anche la sua sorellina Naked Basics 2 Che non mi ricordo dov'è Comunque Qui c'è una slick Che non so cosa si Ah ok Questa qui Anche questa mi piace molto Ne ho un'altra di queste Che non mi fa impazzire invece Questa la tengo Poi questo è un Ah Questo è nuovo Questo ragazze me l'avevano inviato Diego Dalla Palma Non l'ho mai usato Questo lo metto a utilizzare Perché non l'avevo mai utilizzato L'avevo perso Sinceramente Questo Secondo me Sono i blush Che poi Ecco Vedete Oddio Io amo questa palette Questo io lo adoro Io questo colore Lo amo Lo adoro Per me è fantastico Questa è la Vi metto la review Perché secondo me Io ce l'ho La light 373 Fantastica Poi Questa è una palette Che mi piace Per i colori Ma soprattutto Mi piace perché È comodo da portarsi dietro Perché ha tutto dietro Io spero che si veda Con la luce Perché qui Questo è un blush Questo è un blush Questo è un illuminante Il rossetto E poi qua ci sono Tutti gli ombretti Questa la tengo Perché mi piace Orcas Devo fare un po' più Devo essere più cattiva Devo essere più cattiva Qui ci sono altre palette C'è veramente Un casino Veramente Aspettate che metto a posto Che è caduto tutto Ok Allora Questa è un'altra palette Di Elf Che penso Ce ne sia un'altra Qua Uh No 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 Non cadere Non cadere Che l'altra volta Con il video dei blush Poi mi si è rotto un blush Che mi piaceva Queste due palette Che penso Siano anche rotte Ecco vedete Queste vanno Nel cestino Perché sono vecchie Non mi sono mai piaciute Gli ombretti Fanno veramente pena Poi Questa è un'altra palettina Di NYX Che mi piaceva Per il nome Perché si chiama Oddio Non mi Qua non c'è scritto Però è Morocco Night Se non mi sbaglio Così Questa mi piace Mi piace molto Questa la tengo E voglio vedere A chi darla Perché è molto carina È nuova Praticamente Penso di averla utilizzata Una volta sola Soprattutto Cioè lo vedete qui L'ho utilizzata Una volta sola Questa la tengo Perché Cioè la metto via Dalle cose da togliere Però la tengo E vedo magari Di darla A qualche O a mia sorella O a qualche mia amica fidata Cioè che sono due Se no la voglio Non va buttata O me la ripiglio Perché È veramente molto carina Poi queste palette Di Estée Lauder Queste qua Molto basic Che avevo trovato Ce n'è un'altra Secondo me Erano due Che non so dov'è Ovviamente C'è l'organizzazione Pessima E Queste sono Questa penso sia anche nuova L'altra forse sia rotta Questa La tengo per i viaggi Perché voglio provarla Perché alla fine Non l'ho neanche provata E gli ombretti di Estée Lauder Sono molto belli Questa è una palettina Veramente Nuova Non l'ho ancora utilizzata Però mi piace molto Perché è piccolina Compatta È perfetta Quando si va via Tre giorni Quattro giorni Questa Come Oh Vedi Cioè I cose di P2 Mi sono sfortunati Perché mi si rompe sempre Il blush di P2 Mi si era rotto L'altra volta Come questa Mi piacciono Sono comode Da portarsene in giro Anche questa qua Di Essence Questa qua Di Catrice La tengo Che sono nuove Sono tutte sui toni naturali E questa qua Che è con gli ombretti cotti Di Catrice Queste qua le tengo Perché sono comode Sono praticamente nuove E sono comode Da alternarsi Cioè preferisco portarmi Sempre dietro Una cosa così Che la mia palette Di Tom Ford Perché Magari si rompe Magari perdo il bagaglio Magari aprono il bagaglio Tutte queste cose qui Poi Qui vedo Due palette nuove Queste sono degli highlighter Che in verità Una non era per me Una era per una Una trucchina Solo che poi Non ci siamo più messe d'accordo E sono rimaste a me Quindi Poi non mi ha più chiesto nulla Quindi Queste immagino Che siano diventate mie Quindi Una era mia di origine L'altra è diventata mia Solstice and Clopatras Kiss Queste le avevo prese Le avevo fatte prendere A Londra Da una mia amica La mia amica Simona Che se non seguite È sul Ha un blog Che si chiama Mai dire make up Ve lo lascio sotto Mi ricorderò Di lasciarvelo sotto Perché Lei è veramente Un'appassionata di make up Tanto 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 L'ha trovata anche su Instagram E queste invece Sono le palette Che ho acquistato Sotto consiglio di Silvia L'angolo di Saidori Che lei è matta Per questa Lei è matta Per questo violino qui Questo illuminante qua Che se lo mette sempre Ragazze È la morte sua Questo violino qui Quindi queste le tengo E anzi Le spacchetto anche Perché avevo sempre Ehm Avevo aspettato Ad aprirle Perché aspettavo Che la ragazza La volesse Poi quando ho capito Che non la voleva più Poi sono partita ragazze Più che altro Sono partita E quindi Cioè Guardate che Che metodo principesco Che metodo principesco Nell'aprire la palette Ecco Queste poi vanno Riposizionate Nel loro posto Ecco qua Ecco qua Perfetto Andiamo avanti Allora Andiamo avanti Con queste due palette Di Saffron Queste palette Sono vecchissime Sono veramente Molto cippose E le butto Nonostante la pigmentazione Sia stata sempre Veramente molto buona Ma sono comunque Vecchissime Poi avranno tipo 8 anni 9 anni Questa invece È una palette Di New York Color Che ho acquistato E mai provato Questa la voglio provare Perché comunque Se è valida È una buona alternativa Come palette Poco costosa Per magari Una studente E altro Queste sono due palette Di Kiko In edizione limitata Fantastiche Veramente che hanno Cioè hanno azzeccato La texture In una maniera Allucinante Cioè vedete che belle Questa E poi questa qua Sul blu Fantastiche Veramente Queste le tengo Poi Questa è un'altra palette Di Kiko Veramente molto Molto bella Sui toni naturali Questo stesso discorso Di quelle altre Di Sephora E quant'altro Poi Qui abbiamo Due palette Di Wet n Wild Queste qua Questo penso Che sia andata Fuori produzione Questa qua sul verde Perché mi era arrivato Il comunicato E mi dicevano Che alcune colorazioni Da tre Sono andate fuori produzione Questa è la classica Che io tengo Che mi piace Da morire Questa è la Come si chiama Comfort zone Comfort zone Fantastica Una palette economica Fantastica Che tengo Invece Invece Queste due Le tiro via Queste propongo A mia sorella Sono nuove Praticamente Ragazzi Non le ho mai utilizzate Queste le propongo A mia sorella Poi Qui abbiamo Una palette Che veramente Fa pena Già dall'inizio Questa va buttata Perché gli ombretti Non scrivevano Neanche se li pregavi In ostrogoto Poi Qui c'è un reperto Questa è una vecchia palette Di pixie Veramente fantastica Che ha una scrivenza Paura Questa è fantastica Guardate quanto è piccola Top Questa la tengo Ma penso che non ci sia più Smoky eye Questa la tengo Poi qui abbiamo Un altro reperto Archeologico Beauty ok Questa la butto Perché comunque Non mi aveva mai fatto impazzire È vecchia Non Coloriche Comunque anni 90 Niente di che Oddio ragazzi Qua veramente abbiamo Questi sono degli ordini americani Che ho fatto LA Colors Queste palette Le propongo a mia sorella Sono praticamente nuove Mai utilizzate Le le propongo Come anche questa LA Colors LA Colors Questa tra l'altro Ha una bella composizione di verdi Molto molto carina Dovi anche queste due Nonostante questa Mi piacciono moltissimo Però Non le uso ragazzi Penso di non usarle da anni Poi Questi sono due prodotti Vecchissimi Di Look By Bipa Bipa è una catena di profumeria Che non esiste più Da almeno due anni Questo è un quad Di Mua Makeup Academy Che do via Perché non mi piace Poi Questo Oddio Questo penso che mi sia arrivato In qualche beautiful box Ma di una cipperia Allucinante Questo Vai via Poi Questo è di Astra Di Una Anche questo Non proprio Molto scrivente Questo lo do via Do via vuol dire Oh va buttato Lo propongo mia sorella Ah queste sono palette di Kiko Vecchie Queste qui non mi avevano mai fatto impazzire Quindi eviterei anche di tenerle Perché Non mi avevano particolarmente Rapito il cuore Anche questa Poi Questa Questa è un'altra edizione Ah no Questa mi piace un sacco Invece Questo verde Bagnato È La Morte È Fantastico Questa la tengo Che l'avevo ricomprata Perché mi si era rotta Questa ragazza è vecchissima Si vede dal pack Sì Questa è Una palette di cargo E guardate quanto È Bella Guardate quanto È Sbirluccicosa Cioè è meravigliosa Questa palette È fantastica Questa la tengo E la metto con la mia pixie Intanto abbiamo svuotato Il primo robo Di glossy box Cioè quindi vedete Quanto è vecchio Andiamo avanti Adesso capite perché Ho voluto separare Le cose Tra ombretti e palette Allora Le mie naked Naked Le tengo tutte Come anche Allora Penso di averle tutte Sì Ho appena ordinato La hit Che mi deve arrivare Le mie naked Rimangono Ovviamente Anche se Quella che mi piace Di meno È questa qui La smoky Che secondo me Non è alla pari Delle altre Questa è la mia Alice in Wonderland Questa è bellissima Questa è stupenda Mai usata ragazze Mai usata Questa la voglio usare Questa settimana Perché non si può Non usare le cose Veramente Sennò veramente Sei psicopatica Questa è una palette Di make up revolution Mermaids forever Che adesso io apro Ecco la qua Ogni tanto ragazze Sentirete qualcuno Qualche bambino Che urla Perché sotto C'è il giardino Io sono di fianco Alla finestra Proprio qua E questa è La palette È meravigliosa Cioè stupenda Io utilizzo L'altra versione Quella con i toni Naturali Che mi fa Impazzire Adesso la vedremo Comunque Questa qui Mi piace tantissimo Poi c'è Questa qui Che non mi ricordo Cos'è Ah ok Questa è Quella con i blush Cremosi Questa non è Il suo posto Come già vedete Poi l'altra volta Con i video dei blush Non mi ho fatto vedere Un sacco di cose Che poi ho scoperto Più avanti Cioè Eppure avevo Cercato di fare ordine Tiriamo via Questa Già questa torretta Questa torretta Di palette slick Che io amo Questa è una mua Che io amo Queste le tengo tutte Perché mi piacciono Perché le adoro Poi Qui abbiamo due mua Che elimino Nonostante questa sia Il dupe Della naked Però vedete Che brutto Cioè Questa la do Magari a mia sorella Questa la butto Perché Guardate È ridotta I minimi termini Praticamente Elimino Cioè basta Non voglio vedere Questo è scappato La mia furia Di prima Qui ci sono Altre cose Allora Questa la tengo Che è la nuova di Essence La voglio provare Questa Questa l'avevo provata Non mi era piaciuta Perché aveva una scrivenza Un po' pessima Questa la elimino Questa è nuova È di Benecos La voglio provare Invece questa qui È vecchissima È della Metallics Mi piaceva un sacco Penso di averle avute tutte E ne erano uscite tre Molto molto belle Con l'eyeliner Questa la tolgo Poi come tolgo Anche questa E questa Sempre di una collezione Limitata di Essence Però le tolgo Perché comunque Ragazzi Cioè sono belle Ma non le utilizzo Cioè quindi È anche inutile Questa è la nuova Di The Balm Che mi avevano inviato E che ho provato Tipo Due o tre volte Questa la tengo E la voglio provare Assolutamente meglio Perché mi sta piacendo Tantissimo Poi c'è questa Che è di Sephora Che è uscita L'anno scorso Questa l'ho provata un po' Ha toni un po' chiari Questa la tolgo Perché non mi fa Impazzire Sinceramente Quindi la propongo A mia sorella Perché è praticamente Nuova Ma non mi fa Particolarmente Impazzire Come scelta Di toni Qua c'è La Vice 2 Che tengo Qua si era rotto E qui c'è La Vice Numero 1 Se non mi sbaglio Questa qui Ci dovrebbe essere Anche un'altra Vice Se non mi sbaglio Non me lo ricordo Ragazzi Comunque se c'è La troveremo Se non si è andata A camuffare Da qualche parte Qui c'è una palette Molto impolverata Da personalizzare Di Madina Con tutti gli ombretti Cotti di Kiko Ecco Questa la elimino Perché ragazzi Guardate Il mio tentativo Veramente grossolano Di depottarli Sono quasi tutti rotti Quindi questa La elimino A mio malgrado Perché tanto Non li utilizzo Oddio ragazzi Questa Questa è la palette Più brutta Più brutta Più orribile Che io abbia mai Comprato Se voi Bazzicate qui Nel web In Youtube Da qualche anno Saprete che C'era stata Una febbre Per questa palette Di NYX Ma è veramente Una schifezza Questa l'avrei buttata Se non volevo Volevo solo Farmela vedere Ma questa è veramente La schifezza E sapete che io Non dico mai Che un prodotto Una schifezza Veramente per rispetto Ma è Quella è veramente Una vergogna Una vergogna Tanto tiro fuori Ah vedete Questa è la full spectrum Questa qui Di Urban Questa la tengo Mi piacciono un sacco Le palette di Urban Come avrete visto Questa è una palette Di H&M Una Una delusione Perché i colori Sembrano molto Molto belli Ma in verità Hanno Hanno una stesura Una sfumabilità Pessima Questa invece È un'edizione Nata edizia Di Kiko Che elimino E qui ne troviamo Altre Vediamo un po' Quali sono Ecco l'altra Questa qui Queste due Le elimino Sono vecchissime Questa invece È una palette Di Flower Che mi hanno regalato È nuova È ancora in cellofanata Cerito di aprirla Perché Basta Tenere le cose Chiuse Perché poi Quando sei di fretta Non ti aiutano A utilizzarle Questa la tengo Perché mi piace Non vedo l'ora Di provarla Questa ragazza È Paola P India Collection Questa l'avevo comprata Aspettate che ogni tanto Paola P Mi manda delle cose Ma questa l'avevo comprata Perché mi era piaciuta Un sacco È fantastica Non l'ho ancora utilizzata È una vergogna Veramente Una vergogna Qui ho la mia Seconda palette Di Inglot Che avevo fatto in Polonia E se andate in Polonia Ragazze Fiondatevi In un negozio Inglot Perché costa pochissimo Questa è invece La mia palette Di Guerlain Che mi piace tantissimo Perché è doppia Fantastica Veramente Fantastica Cioè Io l'adoro Questa è l'altra Di Physician Formula Che vi dicevo Uguale a questa Cioè sono due palette Questa linea È veramente molto molto bella Qui abbiamo Qui abbiamo altre palette Chico Di un'edizione limitata Penso tutte Allora vediamole Perché non me le ricordo Ecco sono nuove Praticamente Penso di averle comprate Con i saldi Mi dispiace buttarle Perché erano buone Avevano un'ottima pigmentazione Anche questa E poi ce n'è una Sui toni naturali Sul marrone Molto molto bella Oh che carina questa E poi questa Penso sui toni naturali Che è quella più utilizzata Praticamente Questa ragazzi Se le tengo Provo a tenerle Vedere se le utilizzo Se non provo a darle Questa è una palette Di Bottega Verde Ragazzi Che io vi consiglio tantissimo Ha una pigmentazione Una qualità Eccelsa E fantastica Questa palette È veramente fantastica Trovate tutti gli swatch Su trucchi Magari vi lo linko Qui sotto Qui invece trovate Tre palette di neve Che in verità All'interno Costodiscono ben altro Ci sono Oddio Tutti rotti No Vabbè Questi ragazzi Buono Non lo so Cosa farci Perché Avevo fatto una palette Non lo so Ci avevo messo Tutti gli ombretti Singoli No Tutti rotti Tutti i miei Ombretti Kiko No E questa qua So in naturale Non lo so Non so cosa fare Con queste Queste tra l'altro Sono tutto ossidato Penso che butterò Gli ombretti E terrò le palette Per metterci altro Perché Non so Se avete consigli Ditemelo Perché non so cosa fare Poi Questa è una palettina Di Elisabeth Arden Che mi piace tantissimo Soprattutto per gli illuminanti Che sono Favolosi Cioè hanno una pigmentazione Allucinante Bellissima Questa palette Della nuova collezione Questa è una palettina Di MAC Vediamo se riesco Ad aprirla Qua Molto semplice Sono colori Che tra l'altro Si trovano anche In permanente Poi Questa è una palette Di Labo Che voglio provare meglio Perché ha una particolare Ah ho dei colori Molto molto basici Molto classici E voglio provarla meglio Perché secondo me Se Magari evitando Questo rosino pallidino Che Non è proprio Nelle mie corde Magari Gli altri con l'argento E il nero Questo antracite scuro Riesco a fare qualcosa Di carino Quindi la tengo E tengo anche questa qua Nudes Di Catrice Nella colorazione Sand Nudes No aspettate La colorazione Si è Zero zero Poi Andiamo avanti Tidiamo un po' fuori Un po' di roba Ok Penso che siamo Quasi verso la fine Cioè vediamo Uno scorcio Allora Questa la elimino Perché Ah no Questa Mi stavo sconfondendo Con un'altra Questa la vorrei tenere Perché gli ombretti Sono quelli nuovi di Kiko Che poi ha tolto Mi sembra Quelli super super pigmentati Cioè vedete Cioè veramente Veramente super pigmentati Questa la tengo Nonostante La palette La palette sia veramente Di una cipperia E di un design Veramente pessimo Poi qui ho le mie Too Faced Quindi la peach La chocolate E la bonbon Che tengo Queste mi piacciono molto E le metto qua Poi Mi confondevo Con questa qua Che è sempre di Kiko Di una collezione vecchia Che però ragazzi Cioè vedete Quanto è bella Io non ce la faccio A buttarla Mi piace Mi piacciono Questi colori E proprio perché Voglio metterle tutte Davanti a me A vedere che cosa utilizzare Non utilizzare sempre le stesse Queste sono quelle Che vi dicevo prima Che vi consiglio Che vi ho messo anche nel video Dei 10 prodotti Sotto 10 euro Perché costano 9 euro E' fantastica Questa palette Cioè veramente La dovete avere Perché se vi piacciono Le palette Queste scrivono benissimo Questa la metto qua E questa qui E in queste colorazioni qui Un po' più Guardate questo Cioè questo è stra utilizzato E' veramente stra stra utilizzato Adoro veramente Mi piacciono tantissimo Questa è la mia Moondust Che amo Veramente adoro Cioè mi piace da morire Questa è la mia Unica palette MAC E ci ho messo Una fracca di tempo A comporla Perché per me Gli ombretti MAC Non sono niente di che Quindi veramente Per trovare gli ombretti Che mi piacessero Ci ho messo veramente tantissimo Questa fatemi sapere Se volete un video Su watches Solo di questi Ombretti qua Perché per me Sono i più carini E poi adesso sono usciti Quelli nuovi Sono molto carini Però comunque Gli ombretti MAC Secondo me Non costano quello che è Questa è una palette Di blush Questa la tengo Ma non me la ricordavo Dite di Di averla Questa in verità E' una palette Cinesissima No La tolgo Chi la usa Non lo so Sono molto combattuta Cioè Non si può fare Questo video Cosa devo fare Non lo so Mi piace Non la butterei E' una di quelle palette China Che però Mi piace Cioè guardate Questo arancionino Che bello Che è Non lo so Dai Questa la tengo Fatemi sapere Se la devo buttare Questa invece Christmas in New York Di Too Faced Io avevo fatto anche Un video Di questa Edizione limitata Questa la tengo Perché mi piace Moltissimo Mi piace Mi piace Mi piace Dai ragazzi Questa la tolgo Perché non ha senso Tenerla Cioè Non la uso Almeno da tre anni Questa la tolgo Perché Non mi è piaciuta Di Elf Cip 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 Poi Questa è la nuova Di Sephora Mixology Questa qui Ve la faccio vedere Molto molto Carina Non vedo l'ora Di provarla Cioè guardate Come è bella Luccicante Molto bella Questa la metto Tra quelle Che voglio provare Subito Metto qua Sperando che non capo Naked Basics Mi ero scordata Di averla Sicuramente Cioè questo è Perché Capite perché Voglio mettere Tutto qua davanti a me Naked Basics Che voglio Magari provare A utilizzare Questa La butto Questa è un'altra Cipona Di China Queste ragazze Cevano Hanno veramente 8 anni Quelle tipo 88 colori 90 colori 149 colori Questa la tengo Però Questa dai la tengo Ho buttato l'altra Questa la tengo Perché mi piace Mi piace la composizione Dei colori Poi è anche Molto scrivente Non so cosa ci sia dentro Perla di diavolo O non so cosa ci sia dentro Però mi piace Questa è un'altra 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 Bellissima Le palette di Urban In Too Faced Fantastica Debalm Fantastica Questa l'avevo comprata Sapete che mi hanno spedito Un po' di prodotti Ma questa l'avevo comprata E mi fa impazzire È bellissima Stupenda Io sto amando I prodotti Debalm Sono di una qualità Eccelsa E ne dovrebbero parlare Tutti Se volete Vi faccio un video Monomarca Di Debalm Perché sono veramente 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 Molto validi Ha delle cose Tipo i rossetti liquidi Che nessuno ne parla Qui abbiamo una Proterable Di Too Faced Che mi piace tantissimo E che tengo Ovviamente Perché adoro Cioè vedete che colori Super pigmentati Questo sembra Club Di MAC È fantastico O veleno Di neve Che abbiamo visto poco fa Questa è una palette Che sinceramente Non vi consiglierei mai Di acquistare Ma non tanto perché Non è valida Perché costa 45 euro E non costa Quello Cioè non vale Quello che è Gli ombretti Sono molto polverosi Però questa la tengo È la Crisalis Mi sembra Sì È la Crisalis Di Kat Von D Ma non è ancora Arrivata da noi Quindi Non si sa Se arriverà O non arriverà Però sinceramente A prezzo pieno La qualità degli ombretti Non mi ha mai fatto impazzire Infatti penso di avervelo a mezza Anche in un video Di prodotti bocciati Qui abbiamo Due palette di Too Faced Che sinceramente Non so se sono ancora vendute Queste le tengo Perché mi piaciucchiavano Poi non ho Non ho provato tantissimo Questa qua La Romantic Eyes Mi ricordo Che l'ho comprata Ma non l'ho provata bene Questa qui Con questi colori E poi La Summer Eyes Invece l'ho provata Perché aveva dei colori Che mi aggradavano Di più E questo mi si era rotto Purtroppo Comunque anche di illuminanti Questi qua vorrei vedere Poi magari al prossimo Decluttering Non lo passano Questa invece È una palette Multiuso Di quelle che fa Sempre Kiko A Natale Questa la elimino Perché non È molto ingombrante Non la utilizzo Questa è la seconda Di Estée Lauder Che mi si era rotta Vedete Cioè si era un po' rotta Quindi questa la elimino Anche perché i colori Non mi facevano impazzire L'altra invece È molto più carina Oh Qua è un'altra madina Qua che cosa nasconde Ah Qui veramente Ragazzi È la sciccheria Della sciccheria Questo va direttamente Nel cestino Questi sono due ombretti Vecchissimi Di madina Cioè veramente Qua penso Ci siano più germi Che altro Poi Ah Questa è la palette Di Smashbox Bellissima Adoro 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 Perché è fantastica Nonostante abbia Questi toni invernali Io l'ho strautilizzata Tipo a giugno Maggio Quando ero appena arrivata qui Perché comunque Si possono fare tante cose Ha questi due ombretti Questo per sfumare Questo per l'arcata Il pannino per me Il burrino per me Ci deve essere sempre Questa è fantastica Poi una qualità eccelsa Siamo verso la fine ragazzi Ce l'abbiamo fatta Questa è una palettina Molto molto basic Di Sephora Questa qui la elimino Perché non Non l'ho mai utilizzata Sinceramente L'ho utilizzata pochissimo E O potrei tenerla Da mettere Nelle palette da viaggio Questa la metto Dai La metto nella palette Da viaggino Perché comunque Piccolina Compattina Mi dispiace Buttarla Dai Ho buttato un sacco Di roba Poi Qui abbiamo Invece una palette Nuova di Lepo Che non vedo l'ora Di provare Che non trovavo più Sinceramente Ed eccola qua Sempre sui toni Molto naturali Molto molto carina Molto carina C'è semplice Molto classica Per un look da tutti i giorni Però c'è lo scuro C'è il chiaro C'è uno Un po' scimmerino E questo di transizione Questa la voglio provare Ed è la Four Nude Eyeshadow Vediamo se c'è Qualcos'altro Ma non c'è più niente Ok ragazzi Allora Io do un po' di polvere Mi lavo le mani Sistemo tutto E vi faccio vedere Come ho organizzato Tutte le mie palette E cosa ho buttato Vediamo un po' Ho finito di sistemare La mia postazione palette Mi ritengo veramente Molto soddisfatta Perché ci sono state Quasi praticamente tutte In questo mobiletto Vedete Anche qua sotto Ci sono state Quasi 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 tutte Adesso vi mostro Dove ho messo le altre Ma prima di mostrarvi Dove ho messo le altre Già che siamo qua Vi mostro quello che ho tirato via Tutta la monnezza Tutte queste cose qui Che allora Ma alcune vanno buttate Tipo questa qui di NYX Che penso di essere stata Abbastanza chiara O quella di Avon Qua sopra Però molte sono Praticamente quasi nuove Come questa qua Di Sephora Questa qui Questa qua Che è praticamente nuova Io le farò vedere O a mia sorella O comunque A qualche mia amica Stretta Non a qualcun altro Perché molte magari Sotto i video Declattering Mi chiedono Perché non fai un giveaway Ragazzi Io non faccio un giveaway Di roba Che io elimino Perché se elimino roba Perché o comunque O è vecchia O comunque è usata Non è roba nuova E non mi permetterei mai Ma proprio per mancanza Di vostro Nei vostri confronti Di regalarvi una roba usata Cioè nel caso io facessi Un altro giveaway È assolutamente Di qualcosa di nuovo E di recente Non bacucco Cioè vecchio bacucco Che risale al 15-18 Cioè secondo me Non è una cosa da fare E da me Non lo vedrete mai Ecco Cioè se voglio farvi un regalo È per ringraziarvi Non per darvi i miei scarti Cioè assolutamente Una mancanza di rispetto Quindi no Quindi adesso vi faccio vedere Il resto della palette Però pian piano Sta prendendo forma La mia postazione Make up Pian pianino Pian pianino Sto facendo ordine Solo questa qui Che è grossolana Di Tarte L'ho lasciata fuori Perché occuperebbe Solo spazio E così Secondo me sta bene Poi adesso Cammin facendo Vediamo Perché comunque La disposizione Di queste qua Piccoline Non mi fa impazzire Dovrei prendermi Uno di quei contenitori In plexiglass Con i cassettini Dove andare magari A posizionarle In modo da Essere più visibili E più ordinate Perché così Queste qua piccoline Non mi fanno impazzire Ecco devo essere sincera Invece tutte le altre Mi piacciono molto Come sono venute Adesso vi faccio vedere Quelle del cassetto Queste invece sono Le palette che sono avanzate Che ho dovuto infilare Nel cassetto E le ho messe In questo plexiglass In questo contenitore Sono tutte le palette Quad principalmente Per quello dicevo Che devo trovare Una soluzione Per poterle mettere Sulla scrivania Perché la scrivania È molto spaziosa Quindi ha senso Averle tutte lì Secondo me O comunque Se rimangono Magari le metto Tutte qui Ma perché magari Arriva qualche palettone Un po' più grande Qualche nuova palettina Qui comunque Questo spazio Lo lascerò Solo alle palettine Perché comunque Non voglio ritrovarmi A dover fare E cioè Non voglio poi Dover cambiare Organizzazione Questo invece È un cassetto vuoto Dove metteremo I bronzer Perché questo qui È il cassetto Che avevamo fatto L'altra volta Ecco Questa qui Poi non me l'avevo fatta vedere E come Come altre Anche questa qui Di Hourglass Comunque Questa è il cassetto Dei blush Questo qui Ufficiale Con questo qui Dove metteremo Anche i bronzer Poi Poi ho lasciato Un cassetto vuoto Per metterci bronzer E illuminanti E poi qui sotto Ho messo Le palettine quad E niente ragazze Questo è il mio Decluttering Io spero di avervi fatto compagnia Mi spiace per la lunghezza Del video Fatemi sapere sotto Che cosa volete vedere Per il prossimo Decluttering E noi ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao